All'internazionale di Gorla, Elisa Baldazzi, lei parteciperà anche al Gran Premio. Chi salta con te? Elios Larsson, che è lo stesso cavallo con cui ho partecipato quest'anno nel mio primo campionato d'Italia segno assoluto. È un cavallo che ho ormai da un anno e dall'anno scorso è attualmente il mio primo cavallo, dopo Diablo. Però sta saltando molto bene, è un cavallo un po' particolare, però ho ottime idee per il futuro con lui. Spero di fare delle belle gare, già comunque sta saltando bene, speriamo bene oggi. Una primavera emozionante, grandi gare. Sì, comunque è un anno transitorio, il primo anno senior, le prime gare importanti, cavalli nuovi, nuove esperienze. Poi spero magari di andare un po' all'estero. A parte la primavera è importante, è proprio un anno importante di esperienze forti e spero di continuare a migliorarmi sempre di più. Abbiamo letto sul tuo braccio una frase molto importante, visto che si parla di cose importanti. Ce la puoi far vedere? Certo, ormai ce l'ho da due anni e non mi serve troppo leggerla sempre. Ce l'ho un po' impressa, diciamo. È un po' una mia filosofia di vita, un po' per tutti i punti di vista, tutti gli aspetti. Prossimi appuntamenti importanti che affronterai? Penso che farò la crescita top, l'eccellenza lì a Cattolica e penso porterò quasi tutti i miei cavalli lì per farli uscire un po'. Poi in programma di gare importanti vorrei fare qualche internazionale Under 25 all'estero verso fine anno e mi piacerebbe fare Salisburgo, magari se riesco a qualificarmi per la gara Under 25 che è molto bella. Oppure sì, qualche internazionale. Però diciamo per quest'anno non troppi appuntamenti importanti. Magari Piazza di Siena, prossimo anno, quello dopo. Vedremo. Vedremo anche e soprattutto la forma dei cavalli, la forma mia, perché comunque conta tutto. Hai parlato col tuo tecnico di riferimento per questi appuntamenti? Sì, sì, no, lui mi appoggia, fai bene, perché comunque sei, oltre che senior, continui ad essere Under 25, quindi nella fascia giovanile, ed è giusto comunque, secondo lui, che io faccia delle gare riservate ai cavalieri giovani della mia fascia d'età. Ecco, non so se lui riuscirà sempre a venire con me, perché comunque c'è anche il suo bimbo, bimbo ormai no. Vabbè, però mi segue sempre, anche se non c'è, c'è. C'è con il lavoro a casa, il lavoro con i cavalli, no. Mi appoggia, sempre. Lui, mio papà, tutti. E il tecnico nazionale anche? Mirko? No, Roberto Ariosi. Ah, Roberto, no, sì, Roberto, poi lo conosco bene, anche perché sono molto, molto amica di Francesca, e sì, ci scambio due parole, magari per vedere il percorso, e poi è sempre tecnico, poi io sono sempre magari salve, no, ma prima mi davi del tuo, ho detto, eh, vabbè, però. No, ma poi il mio tecnico è anche e soprattutto Emilio, per Leandre 25. Mi hanno parlato un po' degli appuntamenti, comunque ormai gli appuntamenti, diciamo, importanti, Coppe delle Nazioni sono andate, e cerchiamo di lavorare per i prossimi anni a questo punto. Grazie mille, complimenti. Grazie a te, alla prossima. Grazie a te, alla prossima.